nonostante appunto il ritardo con cui uscirà questo video finita appunto la partita Napoli-Atalanta con un massacro si può dire un massacro veramente una partita dominata dall'Atalanta una partita veramente grandiosa che si è conclusa con il risultato per ben 3-0 a favore della Dea grandissima partita appunto giocata dall'Atalanta dove ha aperto le marcature Miranciuk al 26esimo minuto che aveva preso palo anche al secondo minuto Miranciuk l'apre al 26esimo minuto con un assist di Pasalic un gol abbastanza fortunoso si può dire ma su un disastro clamoroso della difesa del Napoli dove Ramani prima per provare a tenere il centrocampista del Croato ovvero Pasalic cade e appunto lasciandolo completamente libero Wajicic si mette in porta per provare a murare il tiro non riesce a fare manco quello Miranciuk la butta addosso praticamente a Meret ma Meret non riesce a fermarla manco lui facendo appunto passare avanti l'Atalanta il secondo gol dell'Atalanta lo fa alla fine del primo tempo Scamacca che non si è visto diciamo molto durante la partita ma ha fatto veramente una bella partita ha giocato come punta ha giocato come regista avanzato si è visto molto in diversi ruoli differenti e ha fatto una bella partita un grande gol da fuori aria veramente 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 bello che appunto ha portato il raddoppio allo scadere del primo tempo il terzo gol invece lo farà Coop Miners che nonostante appunto la contusione e appunto il dubbio su una possibile convocazione per la partita di oggi oppure no entra appunto verso il sessantesimo minuto in campo insieme a Lukman che anche lui è partito dalla panchina a favore di un Miranciuk che a quanto pare è soddisfatto con un gol e con un assist nella partita di oggi e Coop Miners verso la fine della partita riesce a fare il terzo gol veramente veramente un bel gol con Vajjesus che anche lì sbaglia non riesce a tenere Coop Miners dove Coop Miners riesce appunto dal primo palo riesce appunto ad angolarla e metterla all'angolino sul secondo palo facendo il terzo gol è quello che chiude definitivamente la partita sicuramente l'Atalanta ha giocato una bellissima partita Carnesecchi e Ian hanno fatto una partita paurosa Carnesecchi e Ian hanno neutralizzato un voglioso Osimane un voglioso Osimane di punto che voleva riaprire e provare a riaprire la partita più e più volte ma Carnesecchi con molteplici molteplici miracoli e Ian che l'ha praticamente neutralizzato riuscendo a bloccarlo addirittura quando arriva davanti alla porta e riuscendo addirittura a prendersi anche i falli ogni volta che Osimane provava ad attaccare riuscendo anche a far ammonire Osimane per proteste dopo che Ian ne aveva tolto la palla e Osimane chiedeva il fallo e si era abbastanza infuriato Ian e Carnesecchi sono stati veramente due giocatori incredibili buon ingresso in campo di Coop Miners di Lukman escono per infortunio invece Zappacosta e Scalvini tutte e due per due risentimenti muscolari Scalvini un po' più grave di Zappacosta che si è stirato appunto provando a salvare un'occasione abbastanza pericolosa del Napoli Zappacosta un po' meno grave però le condizioni verranno appunto verificate domani molto meglio e se l'Atalanta ha giocato veramente molto bene e ha soddisfatto Gasperini che ha cambiato alcune mosse De Ketelera è infortunato e non ha giocato ha messo Miran gioca al posto di Lukman ha fatto alcuni cambi Pasadice e centrocampo e nonostante ciò è riuscito a dominare allo stadio di Diego Armando Maradona causando la prima sconfitta del Napoli sotto la guida di Calzona il Napoli invece è stato veramente orribile l'unica sufficienza che darei oggi probabilmente sono Meret e Osimane Meret va bene ha fatto l'ora il suo primo gol ma poi ha salvato veramente un gol clamoroso poco dopo facendo due grandissimi miracoli due grandissime uscite sicuramente non una partita a livello di carne e secchi ma veramente una bella partita e Osimane una sufficienza perché è l'unico che ci ha veramente provato per il resto è stato veramente un disastro di Lorenzo si è mangiato parecchie occasioni Mario Rui non ha fatto niente di speciale i difensori centrali un grandissimo disastro Lobotka diciamo non da 6 ma almeno da 5 e mezzo e sicuramente Politano ha sbagliato tutto Politano ha provato a sbagliare tutto stessa cosa tra ore e Raspadori non ha giocato nel suo ruolo preferito ha provato a fare il suo poi Calzone ha parlato nel post partita parlando appunto di Raspadori dicendo che Raspadori preferirebbe giocare come punto centrale ma non potrebbe giocare punto centrale perché ha già tre attaccanti che sono Simeone o Simene e Ingonge che però gioca anche esterno e quindi Raspadori per forza giocare lì e ha fatto una partita anche qui da 5 e mezzo non una partita non una partita speciale però è stato veramente un Napoli bruttissimo difensivamente si può dire a dir poco orribile e che sicuramente dovrà darsi una svegliata soprattutto in ottica Europa Calzone nel post partita ha detto che vede molto molto difficile una possibilità di vedere in Napoli in Europa anche nella prossima stagione in Napoli che in questo momento si ferma al settimo posto in campionato e l'Atalanta che fa una vittoria veramente importantissima e meritata stando provando a stare dietro lì alla Roma e al Bologna Bologna che doveva affrontare la Seleritana e la Roma che doveva affrontare il Lecce due partite sulla carta facile per entrambe le squadre però sicuramente l'Atalanta non sbaglia un colpo veramente molto molto importante e Zielischi è entrato dalla panchina nel secondo tempo secondo me non ha fatto malissimo ha fatto paura con una bordata una fucilata al volo che poi ha preso il palo e poi per qualche rimbalzo stava entrando la palla in porta a carne secca ha fatto un altro un altro miracolo ma sicuramente bisogna fare i complimenti a Gasperini e i suoi ragazzi molto molto male invece Napoli che è stato fischiato alla fine della partita dai tifosi partenopei voi cosa ne pensate? Napoli potrebbe arrivare in Europa? L'Atalanta arriverà in Champions o si fermerà solamente all'Europa League? Ditemi la vostra grazie a tutti grazie a tutti